Cosa significa per lei amare Milano ed essere presidente onorario del Centro Studi Grande Milano? Per me è molto semplice perché io sono nato a Milano in un rione periferico. In questa città mi sono affermato che con 150.000 lire ho realizzato una grande azienda che oggi dà lavoro a 10.000 persone. Poi ho comprato anche l'Inter, l'Inter Calcio che ho presieduto per 10 anni. Dunque per me è un amore infinito. Ed essere presidente onorario del Centro Studi Grande Milano? E questo è un onore per me, è un orgoglio. Devo ancora ringraziare la presidente Danila Mainini per aver fatto questa gratificazione. È bello. Lei in questo periodo di pandemia ha fatto tanto per le persone che ne avevano bisogno. Che cosa significa per lei la solidarietà? Per me la solidarietà è importante perché partendo da zero, quindi posso dire che sono nato povero, sono diventato ricco. Per me fare qualche cosa per chi ha necessità, per chi ha dei problemi, restituire un poco del tanto che ho avuto nella vita è una soddisfazione enorme. Come si può lavorare ad un futuro più libero e sicuro? Certo che si può lavorare. Abbiamo la fortuna di amministratori molto importanti, un grande sindaco, un prefetto che io stimo molto, tanti personaggi in questa meravigliosa città. Quindi a parte la pandemia di cui nessuno può farci niente, però insomma siamo tranquilli. Io sono tranquillo.